Buonasera, siamo un compagnia anche del buon vecchio Frank. Ok, adesso vediamo come condire i nostri ravioli, carciofi e pancetta. Bene, abbiamo già l'acqua di bolle, pancetta, padellina, abbiamo messo un po' di burro, facciamo sciogliere, facciamo soffriggere la pancetta. E saltiamo i nostri ravioli, semplici semplici. Un'acqua di bolle, facciamo sciogliere la pancetta, il burro. Ecco i nostri ravioli. Il nostro attrezzino per scorare. Eccoci qua, eh. Facciamo presto, 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 presto. Ci vogliono pochissimi minuti. Ecco qua. Facciamo la pancetta. Facciamo risolare verbenino. Ecco qua. Vediamo anche una foglietta di salvia. Che sia fresca o secca, è uguale. Va benissimo anche secca. Ecco qua. Bene, profuma, profuma, profuma. Ancora un po' bene, possiamo mettere in acqua i nostri ravioli, eh. Facciamo sciogliere bene la pancetta. Ecco qua. Ecco qua. Ho messo un po' per me affidaventi. Un po' di minuti, ghi sto in grovio, basta fresca. Oh, guarda, guarda. Guardate che sta durando bene bene la pancetta. e a uno spettacolo una volta un po' poco ci siamo riusciti a fare anche i nostri davioli con i cacciotti perché abbiamo fatto proprio quasi tutto con i cacciotti li abbiamo fritti, li abbiamo fatti alla giudia li abbiamo fatti alla romana e ci abbiamo fatto il pesce ci abbiamo fatto di tutto di tutto e di più ancora si potrebbe fare però vabbè basta basta alle cacciotti ci siamo riusciti a fare la panella dobbiamo favorire bene ok a questo punto finiamo un po' di acqua della pasta finiamo un po' di formaggio mettiamo ecco qua vedete? belli cremosi cremosi i nostri ragazzi sono pronti pochino di formaggio ecco qua il nostro piatto ecco qua il nostro piatto non è gustoso? direi proprio che sì abbiamo fatto un'altra ricettina buona buona e ci vediamo alla prossima ricetta bacio bacio un abbraccio e fate tutto con il cuore grazie e alla prossima bicettina grazie di nuovo e buona segnata grazie